Siamo in un convento, non confortiamoci come sempre che facciamo come ci parla Madonna del Dio, prendo un pegnolo, picchia le soldi, picchia le mamme Guardi, è un convento, ci sono tre mole per la clausura, va bene? Buon lavoro, buon lavoro. Lavori, lavori, certamente ai numeratori te ne puoi C'è il muratore ovunque orina, guarda un po' in giro Se ricorda che questo è un convento, guarda in giro, non ci stanno sui Vado con il piccolo del convento, cacciosternatore Altagliotti, la managhella sul cima Sì, questo fa porco, sorella Eh, fratello, che è quello? C'è, sorella, questo è un uccellino Mmm, bell'altro, e che mangerebbe sto uccellino? Ma, sorella, sembra costruito da forbici, se può scendere gli faccio vedere Ma che si imparava? C'era la chiappa della shop che la coccivotura e vi appa la pumpa da pampa da pampa da pampa da pampa Cavaccio!